L'importanza di lavorare insieme, l'importanza di unire le forze. Questo ci permette oggi di arrivare a firmare un protocollo d'intesa straordinario perché vede da una parte le proloco che organizzano gli eventi e dall'altra i tour operator specializzati nel settore che promuovono gli eventi che le proloco fanno. E questa forza qui ci permette di sempre di più destagionalizzare i periodi di bassa stagione perché le proloco organizzano eventi durante tutto l'arco dell'anno ci permette alle proloco di essere sempre più professionisti nell'ambito della promozione dell'organizzazione ma soprattutto nell'accoglienza perché vorrei ricordare che l'accoglienza deve essere un punto straordinario possiamo essere bravi a promuovere ma poi se non sappiamo accogliere, se non abbiamo i nostri uffici aperti e questo lo possiamo dire a gran voce, grazie alle proloco abbiamo sul territorio un'accoglienza straordinaria. Noi abbiamo pensato di portare avanti questa iniziativa perché comunque riteniamo che la collaborazione tra chi organizza eventi e promuove il territorio e fa l'accoglienza come le proloco e noi che appunto siamo i soggetti che sono deputati alla promocommercializzazione delle marche della provincia di Piesel Urbino sia il primo strumento per poter migliorare le presenze quindi aumentare soprattutto le presenze del territorio e anche la capacità e la professionalità anche nell'accoglienza. Diciamo che per fare una battuta al tour operetto rolandese o all'agenzia tedesca poco importa se c'è Tizio Caio Sempronio che si impegna per promuovere il territorio quello che conta è arrivarci e cercare di far sì che ci sia una qualità dell'accoglienza e che ci sia una capacità anche appunto di promozione, di comunicazione per far sì che questi territori siano maggiormente conosciuti. Noi sappiamo che le marche soffrono sul turismo internazionale in particolare al di là del periodo di pandemia e la crisi internazionale dovuta alla guerra comunque abbiamo sicuramente una percentuale inferiore rispetto alla media italiana noi dobbiamo lavorare su quello, cercare di mettere insieme il calendario degli eventi che fanno le proloco la qualità dell'accoglienza che possono avere le strutture recettive e noi naturalmente mettere insieme queste cose cercare di farle conoscere e promuovere meglio in Italia e all'estero promuovere il territorio e far sì che possa crescere perché comunque essendo un territorio con una qualità della vita molto alta è importante che le persone rimangono a vivere qua e possano lavorarci quindi creare anche delle condizioni migliori di occupazione. Se noi anche da un punto di vista turistico e non gastronomico riusciamo ad unire il nostro territorio non abbiamo paura di nessuno, non dobbiamo temere assolutamente nessuno secondo me noi possiamo giocare un ruolo importante su questo però dobbiamo fare in modo che i campanili siano uniti e non siano divisi. Questa base che parte da Fano e Pesaro che si unisce sale verso Urbino abbiamo veramente un triangolo magico che è imbattibile da tutti i punti di vista.